Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Accademia dei Test. Oggi parleremo di organismi autotrofi ed eterotrofi. Il combustibile chimico più comunemente utilizzato dalle cellule come base per produrre ATP è uno zucchero ed è il glucosio. Tutti gli altri carboidrati e le proteine possono fornire energia, ma devono essere prima convertiti in glucosio. Gli acidi grassi possono essere utilizzati per produrre energia, grazie ad un processo noto come beta-ossidazione degli acidi grassi. Rispetto quindi al meccanismo utilizzato dagli organismi per procurarsi le sostanze organiche, distinguiamo organismi autotrofi e organismi eterotrofi. Rispetto dunque al meccanismo utilizzato dagli organismi per procurarsi le sostanze organiche, distinguiamo organismi autotrofi e organismi eterotrofi. Gli organismi autotrofi, come dice la parola, sono in grado autonomamente di prelevare sostanze inorganiche dall'ambiente, oltre che ad ad nitride carbonica e ad acqua, e a trasformarle in sostanze più semplici e sostanze organiche. In particolare abbiamo gli organismi foto-autotrofi, come per esempio le piante, che sfruttano la luce solare per organicare il carbonio e gli organismi chemiototrofi che invece utilizzano l'energia chimica. Gli organismi eterotrofi invece non sono in grado autonomamente di trasformare le sostanze inorganiche sostanze organiche e quindi devono prelevare queste ultime dall'ambiente esterno. Sono organismi eterotrofi tutti gli animali e i funghi, molti protisti e molti prokaryoti. Per questo argomento è tutto, nel prossimo video parleremo di reazioni metaboliche di ossidoriduzione.